Sono molto felice che siamo riusciti a portare questa partita tra una a casa senza aver necessità di giocare a tie break perché era veramente una squadra tosta con loro insieme di gioco che verso la fine siamo stati bravi a affrontare e sono felice che siamo riusciti a avere questo risultato. Secondo me facciamo un bel lavoro noi come la squadra di essere cariche e di mantenere un buon livello all'interno della squadra che c'è in campo indifferentemente di quelli che entrano, le ragazze che entrano nella panchina sono molto cariche di entrare e noi siamo molto cariche di integrare il nostro gioco e comunque speriamo di continuare così. Adesso mettiamo i festeggiamenti da parte, abbiamo ancora tante partite da giocare e sì, le ultime giornate a finale saranno difficili però pensiamo a domani.